Si chiama Gianluca Pomo, è un uomo che ha origini trinesi, ma da 12 anni vive nel riso dei Baleari e vende aria di Ibiza. Avete capito bene che il vento non c'è troppo luce in grado. Dopo mesi infatti sono fabbriche e vende la fine sigillate di aria di Ibiza. Edichetta in specie del contenuto che nella parte specie è 0 grammi, 100% aria pulita, senza aditivi, made in Spain, senza glutine. Le lattine sono, per così dire, lattine sigillate bene, 3,90 euro ciascuna nella giulateria dell'uomo e fino a 5,90 euro in migliori di souvenir di appunto questa isola. Non ci sono poche persone che raccontano, ma se sono molte, a breve anche per tira, pensate la vendita sul web. Di cosa sarebbe tutto l'uomo in questione a chi lo ha interrogato di questa, diciamo così, attualità? Arebbe detto le seguenti parole. C'è gente a cui l'idea piace, altre che, penso sia una sciocchezza. Il prodotto non ha alcuna utilità concreta, non deve essere aperto, altrimenti la riesce. E' un concetto, se qualcuno vuole avere la informatina, è che non ha capito proprio niente. Spiri gli occhi, respira profondamente, immagina il giuro come il mare, ricorda la luce sensazione di pisa, non dimenticare il nostro frio, il spazio e le versioni, non abbandonate il sogno di incontentismo. E se lo sarebbe riportato nell'erichetta, per quanto riguarda le istruzioni che meritite la uso. Grazie per l'ascosto. Grazie a questo uomo, Gianluca Pomo. Iscrivetevi per questo uomo che non vuole assolutamente vedere la travesse di Giorgio Pomo, o le sono informate del cuore stesso, ma in Stato di Gia, che congratularmi direttamente con un bravo giorno che ha prestato straordinario. Anche a voi a te, buona vita e... Grazie a tutti.